la racconta di un po' di legge la facciamo vedere in televisione dai dillo sei andato nel bosco? sei andato nel bosco poi ho poi ammazzato il lupo e poi i tre bastoni mi hanno dato il bastone suo poi io li correvo dietro quel bastone e poi l'ho ammazzato quel bastone nei bastoni e lui è? e lui è matto nooo è matto è morito è morito morito vuol dire che è matto hai ragione